Bene a tutti in questo nuovo video, in questo nuovo video dovete ben poiché già il titolo andando a provare a vedere come completare una nuovissima missione di queste sfide settimana 10. Infatti la missione che andremo a vedere in questo video è esattamente quella che ci chiede di potenziare armi. In totale dovremmo semplicemente potenziare 3 armi per portare a termine questa sfida. Infatti in questa nuova stagione 5 hanno cambiato il metodo per potenziare le armi, mentre la stagione 4, comunque le precedenti stagioni dovevamo andare a quelle specie di macchine che ci facevano potenziare le armi e appunto dando dei materiali indietro ci facevano aumentare appunto la realtà della nostra arma. In questa stagione 5 invece dovremmo andare proprio dagli NPC. Infatti se cerchiamo ad esempio qui dall'NPC di Vesce Secco e interagiamo con lui, possiamo appunto come potete ben vedere potenziare il nostro AK rendendolo viola. Quindi va semplicemente dare 145 di oro e potenziare il nostro AK. Quindi sicuramente non so per chi di voi non lo sapeva anche che c'era questo fatto che avessero tolto queste macchine, ma da questa stagione ora le armi si potenziano in questo modo. Quindi hanno cambiato totalmente il metodo. Infatti possiamo potenziare anche il pompa, eccolo qui rendiamolo appunto ancora più ok viola, perfetto. Quindi basta appunto andare o da Vesce Secco qui o da qualsiasi altro NPC all'interno della mappa, così vi faranno potenziare le armi. Quindi davvero molto molto semplice. Quindi spero che questo video sia stato d'aiuto, se così come altro vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Così siamo sempre aggiornati su questi tipi di video e le live lo schifo vado a taglia. Infine condividi il suo video, ci vediamo che facciamo vedere anche a loro, appunto, come completare la sfida di potenziare armi. Noi ci vediamo in un prossimo video e alla prossima live. Noi ci vediamo in un prossimo video.